Ebbè ragazzuoli, diciamoci la verità, era un pochino ormai che non si parlava di calciomercato e considerando che dalla partita contro la Fiorentina a quella contro il Sassuolo ci sono diversi giorni di mezzo tra cui anche un weekend nel senso ci sta tornare a parlare in un qualche modo di calciomercato assolutamente, anche perché appunto ci sono arrivate due notizie tra l'addio di Dybala un pochino più vecchia anche quella di Bernardeschi molto più fresca di conseguenza è normale che si torni a parlare un attimino anche di profili offensivi sappiamo benissimo tutti quanti come funzionano certe dinamiche e questa volta farlo è stato Di Marzio che solitamente non dà con tanto anticipo delle notizie riguardo il calciomercato della Juventus in questo caso pare di sì e onestamente c'è una coppia di nomi che ti dà modo di fare delle riflessioni abbastanza interessanti considerando anche quello che potrebbe essere il valore economico per andare a prendere questi due giocatori parecchio basso tra le altre cose perché si parla di un parametro zero e di un giocatore in una situazione particolare che ti darebbe quindi la possibilità di prenderlo a condizioni vantaggiose diciamo così a livello economico perché appunto per quanto riguarda il giocatore a parametro zero pare che la Juventus stia seriamente pensando ad Angel Di Maria e per quanto per carità si parli di un giocatore di 34 anni quindi non più di primo pelo te pensi Cassarola ma come sarebbe vedere che ne so magari un tridente composto da Di Maria Vlaovic e Federico Chiesa nel senso un attimino l'occhio ci va a l'occhio anche il cuore ci va voglio dire ad un'idea del genere però sarebbe curioso vedere un tridente di questo genere ovviamente è normale che nel momento in cui si parla di un giocatore di questa età presumibilmente quantomeno il contratto potrebbe essere di un anno due proprio se la tiri già abbastanza per le lunghe e quindi non lo so quindi non lo so ovviamente certo dal mio punto di vista è sempre interessante andare su prospetti su prospetti giovani su prospetti interessanti e soprattutto futuribili soprattutto futuribili poi però dici cazzo ci sono anche delle opportunità di mercato come per esempio i parametri zero è giusto per rimanere coerenti nel momento in cui il Di Bala e il Bernardeschi lo vai a perdere a parametro zero ci può stare no andare a prendere il Di Maria a parametro zero così per dire pur parler solo che qui ovviamente nel momento in cui appunto si parla di giocatori di una certa età è normale iniziare a fare delle considerazioni di vario genere e nonostante non penso si possa essere si possa mettere in discussione quella che è la qualità del giocatore ci sta magari dire no io non lo vorrei per questa questa e questa ragione ci sta assolutamente io dico la verità se dovesse arrivare Di Maria no va bene nel senso non ci sputo dietro non ci sputo dietro sono sono sincero ma capisco quelli che possono avere dei dubbi considerando appunto quella che è l'età del giocatore quelle che potrebbero essere anche le richieste del giocatore che nel momento in cui si va a muovere a parametro zero è normale che tra commissioni e stipendio si tenda abbastanza ad alzare la cifra ma lì penso che la Juventus stessa nel momento in cui magari la gente dovesse fare richieste di un certo tipo tra commissioni e stipendio la Juve vada a dire fai una roba eravamo interessati però c'è un limite a tutto quanto e fatemi sapere voi qui sotto con un commento che cosa ne pensate di una possibilità di vedere Di Maria con la maglia della Juventus e dallo stesso tempo la Juventus pare stia seguendo un altro giocatore che se non sbaglio anche proprio nella finestra speciale creata dalla UEFA per i giocatori provenienti dall'Ucraina la Juventus da quello che aveva riportato aveva già fatto un sondaggio e si era già dimostrata particolarmente interessata per Neres che è passato proprio dall'Ajax allo Shakhtar Donetsk nella finestra di mercato invernale dove però purtroppo poi sappiamo bene o male come si sono evolute le cose a livello geopolitico e quindi una situazione non proprio idilliaca questa qui per tutti in particolar modo per quelli che sono in Ucraina i giocatori che sono in Ucraina tutti quanti diciamo in generale ma considerando che qui si parla di calcio insomma mi limita questo e ci mancherebbe altro dove appunto la Juventus oltre che questo interessamento per Di Maria pare che potrebbe ancora una volta presentarsi per trattare David Neres e anche in questo caso l'esceso butta via considerando soprattutto che avresti modo di prenderlo ad una cifra parecchio bassa parecchio irrisoria e in questo caso tu per ipotesi potresti andare a prendere magari che ne so anche in combo Di Maria e Neres a delle cifre non particolarmente elevate uno perché è scadenza uno appunto perché c'è questa situazione in Ucraina e ti consentirebbe di andare a prendere il giocatore ad una cifra non particolarmente elevata come già in altri casi sta accadendo ed è accaduto proprio per quei giocatori provenienti dall'Ucraina dove purtroppo non si ha neanche idea di quanto potrà effettivamente riniziare il campionato e quindi lato Sud America tra Argentina Di Maria e Brasile David Neres ci potrebbero essere dei movimenti in entrata per la Juventus e come coppia onestamente a me dico la verità schifo non farebbe sono sincero poi come al solito si potrebbero aprire discorsi riguardo i giovani però ecco ci sono anche pur sempre delle opportunità di mercato e queste due penso che sulla carta quantomeno possano essere due opportunità molto interessanti per il calcio mercato estivo della Juventus perché avresti modo di andare a prendere a poco due giocatori che bene o male dovresti rimpiazzare tra le uscite di Di Bala e di Bernardeschi e avresti comunque modo di investire il tesoretto in altri reparti dove magari avrei la necessità di sborsare del cash in alcuni casi perché l'ho anche abbastanza importante tra terzino sinistro e centrocampista centrale per dire e avere l'opportunità di prendere due giocatori validi là davanti spendendo poco non è una cosa particolarmente terribile dal mio punto di vista poi come al solito ovviamente nel momento in cui si parla di mercato ad aprile è più giusto utilizzare il termine probabilmente di fantamercato fino a prova contraria ad oggi non c'è nulla di certo però ovviamente nel momento in cui escono delle voci perché no ci mancherebbe altro che non se ne parli e quindi voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve Chau! 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 Chau!